Luca Fazzini, una partita incredibile e pazzesca, come te la spieghi? Sappiamo com'è giocare qua a Zuko, deve essere pronto dal primo minuto e magari non eravamo pronti però abbiamo avuto subito un ottimo segnale, se si riesce di tornare in partita chiaro che succedono in queste partite, è raro adesso nel giorno del hockey moderno vedere così tanti gol però dobbiamo sicuramente migliorare la zona difensiva e concedere meno gol a Versailles Greg Ireland era arrabbiato presumo dopo i primi due tempi, così tante reti incassate? Sì, chiaro, la cosa positiva è che sono tutte reti che si possono sistemare, gli errori che abbiamo fatto sono errori magari un po' banali, però penso che abbiamo lavorato duro non penso che questi errori sono arrivati per mancanza di lavoro o qualcosa del genere sono solo cose che magari all'inizio di stagione ci possono stare, l'importante è analizzare il video e cercare di migliorarsi un gran gol il tuo polsino alla Fats, come lo conosciamo? Ma chiaro, so che è la mia arma migliore, quando ho la possibilità di tirare è giusto che provo l'entrata è andata bene, spero di continuare così Grazie mille, auguri per il proseguo della stagione Grazie Grazie